È trascorso quasi un anno da quando una delle coppie di VIP più celebri in Italia aveva annunciato la propria separazione. Parliamo di Francesco Totti e Ilari Blasi che, a distanza di undici mesi, sono ancora al centro dei pettegolezzi. Non più per loro nuove storie d'amore, tormai note, bensì per la vicenda relativa ai famigerati Rolex. Sì perché adesso il giudice Francesco Frettoni della settima sezione del Tribunale Civile di Roma ha preso una decisione molto importante. Stando a quanto riportato dal Corriere, infatti, i Rolex devono tornare a casa. O meglio, devono essere subito ricollocati in un luogo di custodia della famiglia in attesa che venga deciso, con altra causa, di chi sia la proprietà. Secondo Frettoni, infatti, i quattro costosissimi orologi contesi devono restare in co-possession dell'ex capitano giallorosso e della conduttrice di Mediaset, per questo lei dovrà portarli in banca, in un luogo deputato alla custodia e che sia nella disponibilità di entrambi. Inoltre il giudice ha disposto la compensazione delle spese legali, ognuno pagherà le sue. Ora toccherà alle parti trovare una intesa per l'uso dei Rolex, fermo restando che Totti e Blasi potranno impugnare il provvedimento e chiedere la prosecuzione del giudizio. Non finisce qui. Per quanto riguarda la Smart, invece, il giudice ha stabilito che il pupone non avrebbe dovuto tenere per sé le chiavi dell'automobile, che gli era stata regalata dalla moglie, p che in quel momento convivevano. Totti, dunque, avrebbe commesso un illecito civile. Tuttavia, considerato che ora non abita più nella lussuosa villa dell'Eure e che l'auto è intestata a lui, la questione non è più attuale e quindi l'istanza della nota conduttrice è decaduta.